Ciao a tutti! Bentornati sul mio canale. In questo video vi porterò con me in un viaggio alla scoperta del Brunei, un piccolo sultanato islamico situato sull'isola del Borneo. Un paese poco conosciuto e spesso sottovalutato, che si è rivelato una vera e propria sorpresa. Appena atterrato a Bandar Seri Begawan, la capitale, la prima cosa che mi ha colpito è stata la sensazione di ordine e pulizia. Le strade sono impeccabili, il verde è curato e la città ha un'atmosfera tranquilla e rilassata. La moschea del sultano Omar Ali Saifugyen, impossibile non visitare la moschea del sultano Omar Ali Saifugyen, un vero e proprio capolavoro architettonico. La sua cupola dorata e il laghetto artificiale che la circonda creano un'immagine davvero suggestiva. Il Brunei è famoso per essere uno dei paesi più ricchi del mondo, grazie alle sue immense riserve di petrolio e gas. Il palazzo del sultano, Istana Nuruliman, è la residenza ufficiale del sultano Hassan al-Bolchia, uno dei monarchi più ricchi del pianeta. Ciao e bentornato su GeoStudio Italia, rimani collegato e iscriviti al canale attivando la campanellina delle notifiche. Il Brunei ospita una foresta pluviale incontaminata, ricca di biodiversità. Un'esperienza imperdibile è un'escursione in barca lungo il fiume Brunei, durante la quale è possibile avvistare scimmie nasiche, coccodrilli e altri animali selvatici. Il Water Village, un'altra tappa obbligata, è il Campon Gaia, il villaggio galleggiante di Bandar Seri Begawa, un dedalo di case su palafitte, dove la vita scorre tranquilla al ritmo delle barche che solcano le acque del fiume. Il Brunei è un paese affascinante e contraddittorio. Da un lato la ricchezza sfrenata del sultano e dall'altro la vita semplice e umile della maggior parte della popolazione. Un paese che sta cercando di trovare un equilibrio tra tradizione e modernità. Se siete alla ricerca di un viaggio fuori dai soliti schemi, il Brunei è la destinazione ideale. Un paese che vi sorprenderà con la sua bellezza, la sua cultura e la sua gente. Non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanellina per non perdere i prossimi video.